Piero Augusto Stagi, direttore di Tutto Bici, che compie 20 anni. Questa sera dove ci troviamo? Ci troviamo all'Hotel Principe di Savoia di Milano, nel cuore della mia città, perché Tutto Bici è nata a Milano, io vivo a Milano da sempre, come tu sai, e sono passati 20 anni Silvano. Tu ti ricorderai forse quando sono venuto da te in cascina, come sei solito chiamare una casa, che in realtà è una bellissima casa, e comunque cascina è bello, io continuo a chiamarla cascina, e insieme io ti ho sottoposto la mia idea di fare un giornale di ciclismo che però avesse anche un bel peso sul ciclismo giovanile. Tu avevi una grande, e hai una grande competenza, una grande passione sul ciclismo giovanile, e unendo le forze credo che qualcosa in questi 20 anni sia io che te abbiamo fatto. Io spero che sia apprezzato, mi sembra che fino ad oggi quello che è stato fatto da noi sia stato apprezzato, io mi auguro, e ti auguro, e tu forse lo auguri a me, che anche in futuro si possa continuare a fare delle belle cose assieme, e che qualcuno magari apprezzi. Fra gli altri parole di allogio e campioni anche al sindaco Pisapia, che ha detto con Pier c'è un'amicizia veramente importante, ma poi ancora l'archiabotto, ospite d'onore di serata, ma poi ancora tanti amici che in 20 anni ti sei fatto, e questa sera sono qua tutti a applaudire quella tua creatura. Sai, il mondo del ciclismo è una grande famiglia, è una frase un po' retorica ma è vera, infatti ti dico la verità, e qui mi scuso però, purtroppo non sono né la Mondadori, non sono la RCS, non sono la Feltrinelli, siamo la prima pagina edizione, una piccola grande realtà, lo dico con orgoglio, quindi non voglio buttarmi giù, però dovevamo scegliere l'Hotel Principe di Savoia, le sale sono di un certo tipo, potevano starci al massimo a 130 persone, e ahimè ho dovuto veramente fare una selezione. E logicamente ho invitato alla redazione, ho invitato voi perché siete la mia famiglia, a tutti gli effetti, ho invitato i premiati degli Oscar Tutto Bici, gli accompagnatori degli Oscar Tutto Bici, tanta gente non è venuta, ho avuto appunto, come tu dici, delle eccellenze che ci hanno voluto dare un loro ringraziamento. Io sono veramente onorato, infatti, anche del ringraziamento, del messaggio che ha portato il primo cittadino di Milano, il sindaco Giuliano Pisapia. Apro e chiudo la parentesi, ho giocato abbastanza in casa perché il sindaco lo conosco non benissimo, ma abbastanza bene, anche perché il suo figlioccio Francesco ha lavorato con noi 4-5 anni ed era anche un ragazzo di grande talento, che però essendo un ragazzo di grande talento a un certo punto adesso è andato a Bruxelles e lavora al Parlamento Europeo e quindi farà una grande carriera. Ciao e arrivederci fra 20 anni, quando comprerai 40 anni con questa tua rivista, che sicuramente sarà ancora presente con la grinta che hai tu. Silvano, auguriamoci una cosa, che tra 20 anni sia io che te ci riconosciamo ancora. Eh sì! L'auguro che facciamo a tutti, a noi che siamo egoisti, ma a tutti voi, salute e vive il ciclismo.